Musica Ben trovati a Sport News Scocca l'ora del derby marchigiano al Palasavelli di Porto San Giorgio il primo ufficiale della massima serie tra Cucine Lube Civitanova e Guasavatteri Grotta Zolina Domani 27 novembre alle ore 20.30 i Biancorossi di Medei faranno visita alla formazione di Ortenzi per l'anticipo dell'undicesimo turno di Regular Season Prolessi del calendario che si è resa necessaria per la partecipazione della Lube al Mondiale per Club in programma dal 10 al 15 dicembre in Brasile Entrambe le squadre hanno l'esigenza di voltare pagina e si giocano tre punti molto importanti per i rispettivi traguardi Le ragazze invece della futura pallavolo Tolentino hanno conquistato altri tre preziosi punti nella gara giocata in casa sabato scorso contro la formazione delle Telusiano Le interviste di fine partita ve le proponiamo nel servizio curato da Mario Sposetti Allora due protagoniste della vittoria per quanto riguarda la partita moderna Alessandra partita importante e tre punti che praticamente vi portano al secondo posto in classifica guardando sempre San Benedetto Sì è stata una partita molto importante anche perché loro stavano sotto di noi quindi era importante vincere per creare un maggiore distacco Comunque è stata una bella partita Dicevamo appunto partita importante un primo set dove praticamente si è lottato punto su punto poi è stato piacevole il secondo e il terzo Sì noi come al solito il primo set lo prendiamo un po' per abituarci alle avversarie però poi normalmente partiamo sempre un po' più agguerrite oggi è andata bene comunque Che idea ti sei fatto di questo campionato? Penso che abbiamo tutte le carte in regola per poter fare qualcosa di bello e magari arrivare anche all'obiettivo massimo che è quello di arrivare in Serie C Noi ce la stiamo mettendo tutta e speriamo di riuscirci anche con un po' d'anticipo magari Si chiude quindi il girone di andata con la settima giornata un bilancio più che positivo, sei vittorie e una sconfitta proprio con la capolista Sì infatti ai ritorni cercheremo di fare molto meglio c'è ancora da migliorare molto ma penso siamo nella strada giusta Allora Coccia Mosca, vittoria importante soprattutto un primo set dove si è lottato poi però nel secondo e nel terzo è stato tutto molto piacevole Assolutamente sì, vittoria è molto importante per la classifica, per il morale e per il sistema di gioco Il primo set ce lo siamo un po' complicati perché la partita è andata un po' elastico più sette per noi, poi addirittura meno uno quindi è stato un set molto complicato che fortunatamente è stato risolutivo l'ingresso di Ilaria che col solito cambio che a volte facciamo è sempre molto molto positivo quindi sì, ovviamente molto soddisfatto del risultato e dell'approccio delle ragazze Dicevamo questa era l'ultima giornata del girone di andata un bilancio positivo, sei vittorie e una sconfitta a San Benedetto e quella è la partita che sta facendo anche le differenze in classifica Esatto, il problema è che noi, inteso come italiani guardiamo sempre la partita che abbiamo perso e quindi la sconfitta fa parte del gioco nel senso che è impossibile vincere sempre come spero sia impossibile perdere sempre quindi indubbiamente dovremo fare tesoro anche della sconfitta che abbiamo subito a San Benedetto e riscattarla sicuramente qui in casa perché comunque poi come l'anno scorso ci porteremo i punti dietro quindi è importante tenere sempre un livello di attenzione molto alto per appunto non perdere punti per strada Dicevamo praticamente che durante la settimana si lavora con una serietà da parte di tutte le ragazze Assolutamente sì le ragazze si impegnano molto nonostante i vari problemi di studio, di lavoro eccetera recentemente da un paio di settimane è venuto a dar manforte a me e alla società Simone Gabrielli che è una vecchia conoscenza della società appunto nonché è un mio amico e quindi io sono contentissimo di questo ingresso e quindi anche con lui il livello allenamento si è alzato notevolmente perché mi dà, ci dà la possibilità di fare dei lavori più specifici durante l'allenamento la partita della futura volley tolentino andrà in onda in forma integrale questa sera dalle ore 22 circa e verrà poi riproposta anche giovedì 28 novembre a partire dalle ore 13 non finisce di stupire Sofia Pistolesi giovanissimo talento della bocciofila Morrovalle dopo l'argento agli europei juniores e quello assoluto ai mondiali nella specialità del tiro di precisione per Sofia è arrivato un altro argento nelle partite di Raffa è arrivata seconda al master dei campioni disputato nel weekend 22-24 novembre a Cosenza per una sedicenne dovrebbe essere già un miracolo qualificarsi per un torneo del genere ma non per Sofia e neanche per Ginevra Cannuli altra marchigiana della stessa bocciofila due volte campionessa mondiale juniores le due si sono affrontate in una bellissima semifinale che ha visto prevalere la Pistolesi nello spareggio ai tiri al pallino in finale poi ha ceduto in due setta all'Umbra Gilda Franceschini anche lei giovanissima di soli 19 anni fuori già ai quarti di finale invece le altre due marchigiane Flavia Morelli e Chiara Gasperini di L Lucrezia la bocciofila omandolese ha organizzato domenica una gara per formazioni di coppia senza vincolo societario il successo è andato ai laziali Davide Riccardi e Matteo Simeoni che hanno avuto la meglio su Manuel Gattari e Nicola Principi terzi Fernando Rosati e Jessica Gelosi quarti Alessandro Biagioli e Tommaso Biagioli Gran bella gara per formazioni di Terna quella organizzata dalla bocciofila Fontenera la vittoria è andata a Fiorenzo Fascinetti e Stefano Bevilacqua ed Alessandro Ferragina del San Cristoforo Fano che hanno sconfitto Paolo Mazzoni, Emanuele Renzi e Giacomo Serpilli della 24 maggio Macerata terzi classificati Paolo Pesaresi, Pierino Marini e Piero Pieranto Gnetti di Passoripe quarti Simone Borruso, Pierluigi Trabalza e Roberto Passeri del Sant'Angelo Montegrillo e con quest'ultima notizia di sport termina questa edizione delle TG grazie per l'ascolto e a tutti voi auguriamo una buona serata Grazie a tutti